ciao a tutti i ragazzi benvenuti sul canal 0.03 ragazzi riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta allora dobbiamo uscire dalla casa ci però ci mancano le tre teste allora lì non possiamo andare l'anno allora più di 20 persone scomparsi in due anni ok che era la stessa cosa che c'era scritto all'inizio se vi ricordate il capitano ovel della polizia statale ha comunicato l'inizio delle ricerche di elen mid kiff una studentessa di carolina del nord scomparsa durante una visita in luisiana la ragazza sarebbe stata avvistata l'ultima volta la notte del 21 dicembre negli ultimi due anni i casi negli ultimi due anni i casi di persone scomparsi nel sud della luisiana sono aumentati drammaticamente ragazzi volevo avvisare che se eventualmente non ci sono non vedete che non mi scompare la tricamera è perché devo eliminare parecchi video si tratta per lo più di turisti e vagabondi si stima che i casi di scomparsa ammontino a più di 20 di 20 la la polizia non esclude che si possa trattare di omicidi e ha un riferimento di un possibile collegamento tra i casi scomparsa nei prossimi giorni saranno istituti interrogatori locali e verrà aumentato il personale addetto alle investigazioni alisa a scroft 19 gennaio 2016 allora avevamo detto volviamo a vedere sopra oh madonna mia magari è lobby del pavarino tanto raga jack dovrebbe essere morto allora moneta antica scultura in legno una scultura della forma bizzarra e fatta di legno ok potremmo metterla proprio sotto eeeh dai non credi è molto meglio che morire una mia piccola giova un bellissimo come vedi la mia è stata non so dove andando un attimo anche perché comunque abbiamo già delle cose insieme pistola no insieme il fucile la moneta antica la volta da sparo e per il momento può bastare così allora qua bisognerebbe rifare il simbolo dell'uccello allora raga lo so che devo andare fuori dall'area del gioco il problema è che sto raccogliendo i cavi del vr del visore perché ci rischio che ci inciampo in una maniera incredibile che acciacquo tanto quella parte ve l'ho tagliata ragazzi la parte dove ho sistemato i cavi del visore allora erba munizie per pistola affluido chimico altre munizioni psicofarmaci scusate regala da quanto tempo non mi avete visto che sinceramente io non me ne sono accorto forse ho capito perché c'erano bisogno delle munizioni della pistola a meno così tante insieme di mandello che cos'è cara cara nei quei bastardi mi stanno cercando ma forse questa questa può aiutarti a fuggire per andare via da qui devi trovare una scultura a forma di testa di cane ne ho visto una nella stanza delle dissezioni nel semi interrato valla a prendere è la chiave per fuggire da questo posto avevamo detto avevamo detto stanza delle dissezioni stanza delle dissezioni stanza delle dissezioni semi interrato significa molto probabilmente ne dovrei andare per di qua ma sicuro guardate stanza delle dissezioni è una ecco lucas ho preso il tizio che continuava a scappare l'ho rinchiuso nell'inceneratore in fondo a sinistra così non ci sfuggerà più tiralo fuori quando è il momento sai come aprire l'incenatore no ricorda 3 a e un'impronta della mano fai come te pare con la ragazza brutto cretino la ragazza è la mia è mia moglie prima cosa seconda cosa se devi stare zitto questo è soltanto uno s*****o è meglio allora avevamo detto uno due no esatto quindi una di queste è quella così bisogna avere quest'altra ok ho ricevuto danni no perfetto quante munizioni quante munizioni c'ho però una stavano tutti bene ma ma se nel trattamento pistola polvere da sparo chiave scorpione foto tesoro insomma rega non è che non c'è niente qua eh allora rega vi faccio vedere secondo me craftare le munizioni del pistolo non conviene come me è meglio fare così perché non conviene proprio guarda che cala guarda questo è un mese proteggio guarda ecco ok questa l'abbiamo sbloccata io direi che visto che non ve la voglio far giurare più del previsto credo già così siamo arrivati a un buon punto è di registrazione via chiudi chiudi oh oh ok 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 allora dicevo visto che noi non ci abbiamo più io sto ridotto davvero con le pezze non c'ho più niente allora diciamo che c'è questa che possiamo aprirla col primandello vedete rega lo sapevo sapevo che non ci dovevamo sprecare queste eh ma rega due colpi ma che ci facciamo ragazzi allora la prossima puntata ci andiamo ad aprire la stanza delle dissezioni nel semi interrato e poi niente ragazzi questo perciò vi mando un bacione a tutti e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao